ciao allora oggi vi parlo di questo mascara della L'Oreal si chiama extra volume collagene ed è un mascara volume istantaneo vi faccio vedere lo scovolino che è bello cicciotto e vi ho fatto vedere qui il video dove comunque lo applico qui nella prova su strada così vedete anche l'effetto eccoci allora cosa dire di questo mascara intanto che è nero è davvero nero è fantastico cercavo di trovare la quantità che è un 9 ml e mi piace mi piace come volumizzante ma allunga anche e lo avete visto fa un po' un effetto ciglia finte leggero che mi piace il fatto che sia così nero lo rende subito un trucco occhi molto intenso perfetto va bene anche un paio di passate vanno bene anche per il giorno o per un look più strong alla sera fantastico l'ho già detto fantastico e dura a lungo non fa grumi non ne appiccica le ciglia e non perde i pezzi di mascara che alcuni lo fanno è una cosa odiosa questo davvero dura a lungo e tutto il giorno tranquillamente dura si e si strucca con un normale struccante bifasico oppure un struccante occhi comunque quelli indicati per gli occhi sicuramente cosa altro vuol dire questo scovolino così cicciotto e permette di aprire bene il ciglia a ventaglio e di andare ad applicare su ogni singola ciglia senza però macchiare perché la dimensione è giusta non è troppo grande neanche troppo piccola dimensione giusta per andare ad applicare il mascara sulle ciglia senza premere che rischiamo di andarci a macchiare quindi io davvero ve lo consiglio perché è un ottimo mascara in teoria volumizzante ma anche davvero allungante forse per il fatto che ha queste colore così extra dark questo nero che subito rende lo sguardo più intenso se lo avete provato fatemi sapere come si trovate io ve lo consiglio assolutamente e spero che sia utile e mettete un like al video se vi è piaciuto per favore e iscrivetevi al canale così non perderete la prossima accensione beauty e alla prossima ciao